Devo dire che quando si sa di essere nel giusto, quando si sa di essere innocenti, si ha sempre comunque la speranza e la certezza che la giustizia prima o poi prevalga. Le ultime notizie sono che l'ambasciata sta predisponendo i documenti necessari per Tommaso e Elisabetta, in quanto loro ormai sono sprovvisti di qualsiasi documento. Deve arrivare l'order della Super Corps in originale al carcere. Nel momento in cui arriva al carcere il direttore è autorizzato a farli uscire, a farli scarcerare. L'ambasciatore pensa di avere tutto pronto entro domani e giovedì volare a Varanasi e con la speranza di potersi riportare anche a Delhi. I giudici hanno dimostrato di essere veramente delle persone corrette, che hanno valutato il caso per quello che era, guardando le carte, guardando finalmente i documenti, senza farsi neanche... C'era il timore di questo fatto che comunque erano italiani, rapporti Italia-India, ma loro hanno dimostrato che i giudici, quando sono corretti, sono giudici. Mi auguro che sia così per tante altre persone che stanno aspettando. Pensi che questa sia la chiave per risolvere anche il problema con la Torre Girone? Io credo che questi due casi siano completamente diversi e non sono mai stati accomunati. Spero che anche per loro, prima o poi, perlomeno si possa arrivare al dibattimento o ancora meglio che lo Stato italiano trovi un'intesa con... Io mi ha mandato un messaggio questa mattina a Paola Moschetti, che è la compagna di La Torre, con quale sono in contatto da sempre e le auguro di poter fare al più presto un messaggio anch'io a lei per la liberazione di La Torre. Un ringraziamento va... non mettiamolo come ordine, ma va soprattutto ad Albenga, agli amici di Tommaso, a questa grande solidarietà che ci hanno espresso e che ci ha dato la forza di andare avanti. Va ai nostri avvocati che hanno lavorato in modo egregio e nel migliore hanno fatto quello che era possibile fare, anche alle nostre istituzioni, che devo dire all'ambasciatore Mancini, al quale sono ormai legata da una fraterna amicizia. Tutto sommato anche ai giudici indiani che si sono dimostrati delle persone molto competenti, molto corrette, molto oneste e che sanno fare il loro lavoro.